Si va completando lo staff tecnico di mister Vincenzo Fusco. La battipagliese infatti ha ufficializzato, donato Cataldo come collaboratore del tecnico Bianconero e riconfermato Antimo Maggio come preparatore dei portieri. Ieri intanto si è tenuto lo stage dedicato agli under fino al 2001, presso la struttura sportiva di Casignano di Pellezzano. A tal proposito la società ha ringraziato per l'ospitalità la Soccer Academy di Luca Fusco. Grazie a tutti.